ciao a tutti buonasera in merito all'argomento trattato durante aspettando la mezzanotte vorrei dare anch'io il mio apporto riguardante una una procedura per correggere per creare in maniera corretta un tetto a due falde va bene un cubo di default chiaramente adesso che cosa faccio entro in edit mode e premo ctrl r per suddividere il mio cubo seleziono il jedge l'edge verticale lo porto su così ho creato l'aspetto a due falde della mia struttura dopodiché che cosa faccio con premendo 3 da tastiera seleziono le due facce che formano le due falde del tetto poi vado a selezionare a selezionare extrude individual è praticamente estrudo in maniera diciamo così non non metrica i due le due falde va bene però è chiaro che si può si può fare tranquillamente anche con con le misure adesso il nostro tetto prende si presenta in questo modo con questo artefatto centrale adesso la dinamica della discussione era come poter unire in maniera diciamo corretta le due falde al centro d'accordo quindi avere un'unica in linea apicale ok come procedo anzitutto selezionando chiaramente le facce cancello le due facce che non mi interessano ok perché chiaramente questi questi due edge si andranno ad incontrare dopodiché seleziono il lo snap in visualizzazione edge ok seleziono ledge premo con chiaramente con la possibilità di rimuoverlo clicco per due volte g ok e come potete vedere posso navigare lungo ledge diciamo laterale premo c per potermi allungare negli edge diciamo l'infinito che se non sono vincolato sulla lunghezza dell'edge diciamo laterale e chiaramente avendo impostato lo snap posso mettere tranquillamente in ordine il mio il mio edge sulla diciamo sulla proprio sulla verticale stesso discorso faccio con con l'altro con l'altro edge premo due volte g da tastiera poi c per allungare all'infinito le mie rette è praticamente prendo come riferimento visto che ho selezionato snap edge prendo come riferimento chiaramente il ledge verticale ok adesso è perfettamente collegato l'unica cosa da fare adesso è chiaramente selezionare i vertici selezionare tutti quanti i vertici premere da tastiera quindi fare merge by distance ok ci accorgiamo che due vertici sono stati collassati quindi abbiamo due vertici di qua e due vertici di qua la coppia di vertici in pratica va bene dopodiché premendo invio esco e mi assicuro togliendo poi lo snap mi assicuro che i vertici siano collassati ok il il mio prodotto è completo e finito quindi ho risolto il problema del dell'unione delle mie due file destruse ciao grazie